È sempre più al centro dell'attenzione il ruolo dei comuni nella cooperazione transfrontaliera in ambito Euregio. Un gruppo di ricerca di Eurac Research ha presentato i risultati e le raccomandazioni di uno studio a respiro transfrontaliero. L'Euregio, come ente a sé, ha proprio nel proprio DNA la cooperazione transfrontaliera e perciò la gente che vive sulle frontiere, non soltanto sulle frontiere statali, ma anche su quelle infrastatali, diciamo, quelle che percorrono tra la provincia di Bolzano e la provincia di Trenta, per noi è molto importante anche vedere e anzi sentire e sapere cosa ne pensa di questa cooperazione transfrontaliera. Noi vogliamo proprio vedere dove ci sono sia le sfide, ma anche le possibilità che si aprono attraverso una cooperazione transfrontaliera anche per avere, diciamo, una sorta di input per il nostro futuro lavoro. Noi la vogliamo in ogni caso rafforzare, vogliamo che una cooperazione oltre le frontiere può crescere e può crescere anche attraverso il nostro lavoro. Le regioni di confine assumono un'importanza rilevante nel processo di integrazione europea. I ricercatori di Eurac Research, Governance Group, Elisabeth Albert, Alice Engel, Greta Clotz ed Ingrid Kofler hanno presentato la posizione di partenza e gli obiettivi di questo studio. Forse posso menzionare due raccomandazioni più concrete. Una è, per esempio, di coordinare i calendari di eventi tra i comuni, nel modo che l'altro comune, oltre il confine, automaticamente ha anche accesso al calendario dell'altro comune. O un secondo modo di collaborare sarebbe di formalizzare le strutture di collaborazione, per esempio con una persona fissa che si occupa della comunicazione e cooperazione transfrontaliera. Dall'altra parte, anche il GEC può rafforzare il suo ruolo a livello locale, per esempio come strumento o come ente che organizza degli incontri di informazione o anche incontri tematici. I comuni sono garanti della vicinanza ai cittadini, soprattutto nelle regioni frontaliere, diventano un parametro e un luogo ideale per la visibilità del valore aggiunto dell'agire europeo. Secondo me ci sono due concetti dell'Europa, l'Europa delle nazioni o l'Europa delle regioni. La mia esperienza negli ultimi anni è stata che l'Europa è veramente l'Europa dove diverse etnie, dove diverse lingue si incontrano nelle regioni ai confini. Con il coinvolgimento dell'Euregio, delle associazioni dei comuni e dei consigli CLL di Interreg, lo studio ha lavorato su una maggiore cooperazione per cui i suddetti comuni di confine all'interno dell'Euregio sono stati utilizzati come comuni pilota. Noi già da anni cerchiamo di cooperare e collaborare con i comuni di Cries e abbiamo degli esempi anche pratici, infatti abbiamo fornito la nostra acqua potabile a case oltre il confine per dare una mano al comune che era in difficoltà. Abbiamo anche un progetto che riguarda eventuali danni ambientali, sempre nell'ambito del progetto del BBT, che adesso stiamo praticamente attuando, c'è un progetto abbastanza consistente, che si tratta sempre della fornitura di acqua potabile. I lavori di ricerca scientifica sono stati accompagnati e garantiti da un comitato di monitoraggio.